Ecco la questione ossidazione e radicali liberi che magari hai sentito spesso nominare spiegata in modo semplice e per tutti così che tu possa avere chiarezza su questo per sempre. Tieni presente che le nostre cellule lavorano H24 per permetterci di vivere e il più importante di questi lavori è svolto dai motori delle cellule che si chiamano mitocondri. Questi sono immaginateli come dei piccoli motorini che bruciano i nutrienti derivati dal cibo che mangiamo e producono energia. Praticamente possiamo dire che siamo vivi grazie al loro lavoro costante e quotidiano. Tieni presente che quando lavorano come tutti i motori bruciando, questi mitocondri producono anche degli scarti e delle scorie inevitabili e gli scarti di questo processo quotidiano, ti ricordo, costante H24, si chiamano proprio radicali liberi. Te li puoi immaginare come una ruggine che facilmente attacca tutte le cellule dei tessuti, le fa ammalare, le fa invecchiare prima e poi le fa morire. Questi sono i radicali liberi. Quindi possiamo dire che il processo di produzione dei radicali liberi deve essere sempre tenuto sotto controllo. Se ossidazione e radicali si producono in quantità esagerata, quello che succede è che tu inizi ad ammalarti, produci infiammazione e puoi portare i tuoi organi verso una funzionalità difficoltosa, disfunzionale. Ora la domanda inevitabile seguente è cosa produce un aumento esponenziale di radicali liberi nel tuo corpo? Cosa fa sì? Qual è il problema per cui il corpo inizia a produrne troppi? Il problema è legato al carburante che usi. Infatti zucchero e carboidrati, se sono il carburante prioritario, i mitocondri iniziano ad essere in difficoltà. Devi sapere che i tuoi mitocondri non sono affatto come dire stati creati, potremmo dire, non sono fatti per bruciare zucchero come benzina principale e quando sono costretti a farlo perché tu mangi zucchero tutti i giorni e se c'è zucchero loro sono costretti assolutamente a usare quello come benzina prioritaria, quello che accade è che iniziano a produrre una dose doppia di radicali liberi. E così ricordati che ogni volta che mangi pane, pasta, dolci, merendine, pizza, produci il doppio dei radicali liberi nel tuo corpo e questa cosa purtroppo, grazie alle tue abitudini che non sono naturali, succede ogni giorno e H24. Un altro problema è anche mangiare di più di quello che ci serve e questo è inevitabile se il tuo metabolismo è fondato sugli zuccheri, ti capita inevitabilmente di mangiare più di quello che ti serve e soprattutto quando non ti serve, quindi la sera e la notte. Quando mangi di sera ricordati che crei il doppio dei radicali liberi perché tutto quello che non verrà utilizzato va proprio a creare scorie che attaccano le tue cellule vitali. Poi anche l'inquinamento, il fumo, l'alcol, farmaci, lo stress, questi sono tutti i motivi per cui i radicali liberi aumentano nel tuo corpo, quindi carenza di sonno e ritmi di vita che sono senza pause, nei quali lo stress monta tantissimo. Altra domanda importantissima, ma cosa succede quando i radicali liberi sono troppi nel nostro corpo? Succede che sviluppiamo quello che si chiama stress ossidativo e gli scienziati chiamano anche questo infiammazione, invecchi prima e tutti i tuoi sistemi progressivamente si vanno inceppando, quindi metabolismo, sistema nervoso, sistema immunitario, ormoni, pelle, capelli, occhi, denti, tutto va in caduta libera. Altra domanda importantissima, come ci liberiamo dei radicali liberi? E qui andiamo a vedere quali sono i nostri migliori aiutanti, tenendo presente che il nostro sistema interno ha già predisposto tutto quello che gli serve per liberarsi naturalmente dei radicali liberi, dobbiamo solo consentirli di lavorare. Andiamo a vedere quindi quali sono i più preziosi antiossidanti naturali già presenti nel nostro corpo. Il primo e più importante antiossidante naturale è il tuo stesso colesterolo, perché il tuo antiossidante è più potente. Ma come? Addirittura il colesterolo ci può così aiutare? È proprio così. Come devi fare a far sì che il tuo colesterolo lavori? Dando al tuo corpo il permesso di diventare un bruciatore di grassi, mangiando il 55% delle calorie totali della tua giornata come grassi saturi sani, sia saturi che monoinsaturi. Quindi parliamo di burro, di ghi, di olio di cocco, di olio evo. Sicuramente nelle risorse di questo video troverai anche una bella guida ai grassi sani e al loro utilizzo. Altro antiossidante naturale presente nel tuo corpo è il glutatione endogeno che è prodotto dal fegato e che è uno straordinario aiuto per le tue cellule. Quindi il tuo compito principale è far sì che il fegato si possa sempre rigenerare. E qual è il migliore aiuto quotidiano che puoi fare per tenere sempre un fegato in salute? Devi farlo digiunare di notte evitando di sovraccaricarlo la sera con una cena troppo pesante. Soprattutto più vuoi produrre glutatione più devi saltare la cena. Salta la cena e il tuo fegato si rigenererà notte dopo notte. E poi è importante non sovraccaricarlo con fruttosio, grassi e zuccheri di cattiva qualità, quindi oli di semi sono tossicissimi e lo zucchero è veramente un nemico importantissimo del tuo fegato ma soprattutto anche il fruttosio. Fai in modo che il tuo glutatione possa sempre essere in buona salute e per questo ti aiuta anche il selenio, il selenio minerale straordinario che può tenere sempre il tuo glutatione in ottima performance. Altro antiossidante naturale che puoi prendere naturalmente dal cibo è la vitamina C. La vitamina C è incredibile come antiossidante ma più che prenderla in pillole o disintesi, quello che puoi fare è andare ad attingere alle sue fonti più preziose come l'olivello spinoso, l'acerola, unito magari alle bacche di goji e alle bacche di acai. Questi sono in natura i più potenti antiossidanti, semplicemente seccate queste bacche realizzate alla polvere e prendendone un bel cucchiaino nella tua bevanda preferita della giornata o soprattutto al mattino, questo ti dà vitamina C di pronto utilizzo senza effetti collaterali e utilissima come antiossidante. Infine consiglio importantissimo, aggiungi vitamina D3 perché questa è un altro antiossidante specialissimo per il tuo corpo e fai sì che l'apporto di questa vitamina C sia quotidiano, quindi non ne devi prendere tanto perché altrimenti squilibri l'equilibrio del calcio nel tuo corpo, ma lo devi prendere tutti i giorni. 2.000 unità sono perfette per te ogni giorno, quotidianamente e soprattutto inserite all'interno di una dieta che prevede grassi sani perché se non hai grassi sani, soprattutto saturi, non potrai assorbire la tua vitamina D3. Questi sono i migliori antiossidanti e fanno il tesoro di questo video, mettilo in atto e vedrai grandi cambiamenti nella tua vita. Ciao.